Il presidente della giunta regionale, Luciano D'Alfonso, si è confrontato nel corso di una videoconferenza con il nuovo capo dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli. Al centro dell'incontro ci sono stati i temi legati agli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo tra agosto 2016 e gennaio 2017. Hanno preso parte all'incontro il sottosegretario, la presidenza con delega, la protezione civile Mario Mazzocca, i dirigenti e funzionari dell'amministrazione regionale e il direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione, Marcello D'Alberto.